Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, incidente in bicicletta in provincia di Arezzo ferita. Una quattordicenne è successo alle 11 nel comune di Badia Tedalda, lungo la strada comunale Pian di Botta. Una ragazzina di 14 anni è caduta dalla bicicletta e poi ha riportato ferite, trasportata in codice giallo con l'elisoccorso all'ospedale Careggi di Firenze. Un altro incidente che ha visto coinvolto e ferito un minorenne, questa volta un ragazzo di 15 anni, invece è avvenuto alle 13.40 nel comune di Laterina, Pergine, Valdarno. L'incidente ha visto coinvolto un furgone, a bordo si trovava anche il 15enne. Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale della Gruccia, anche lui in codice giallo. È stato ritrovato in Casentino a bordo di un camion proveniente dal Portogallo, un cellulare che era stato rubato pochi giorni fa a Roma. Ad individuarlo sono stati i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Bibiena che hanno portato a termine un'attività di indagine con la quale è stato possibile recuperare lo smartphone e poi denunciare anche l'uomo che era in possesso del cellulare per ricettazione. Parliamo adesso di lavoro perché c'è una forte preoccupazione nel Valdarno-Aretino, non solo la vicenda Fimer, ma adesso anche un'altra azienda che oggi ha osservato due ore di sciopero. Da un anno abbiamo preso alcun percorso con le istituzioni, con il comune di Terranova, con la regione toscana, l'unità di crisi. E puntualmente da un anno tutte le cose che ci ha detto la proprietà di Opefiscio Tecnologico non si sono realizzate. Ad oggi la situazione è che siamo un po' scarichi da un punto di vista di volumi da produrre e non vediamo soluzione a questo. Inoltre in mese di luglio non sono stati pagati ancora l'aspettanza ai lavoratori. Due ore di sciopero all'upificio tecnologico di Terranova nel Valdarno-Aretino, l'azienda che principalmente lavora nel settore degli inverter per gli impianti del fotovoltaico, un ex ramo dell'indotto Fimer. Si tratta di un'azienda che avevamo già incontrato in sede istituzionale, in regione, dove avevamo posto delle perplessità rispetto all'ipotesi di sviluppo industriale che c'erano state sottoposte e effettivamente poi non si sono concretizzate. Ricordiamo che questa è un'azienda che non opera direttamente per la Fimer, ma opera a quota parte per un fornitore della Fimer, quindi è un caso a sé stante. Gli stipendi ancora non sono stati ricevuti dai dipendenti, è una realtà che comunque costa di decine di persone, quindi è importante essere qui presenti, è importante spostare l'attenzione anche su questo caso, perché ci sono famiglie che vanno tutelate e quindi siamo oggi ancora una volta a fianco dei lavoratori per sostenere le loro legittime esigenze e le loro legittime rimostranze. Ci dispiace peraltro che oggi non ci sia nessuno a rappresentare l'azienda e quando ci si trova in queste condizioni non c'è agosto che tenga, bisogna che chi ha la responsabilità ci metta la faccia e dia risposte concrete a dei dipendenti che lavorano seriamente e onestamente e hanno diritto alla loro retribuzione. L'incontro con la proprietà è stato fissato per il prossimo 31 di agosto. Quando andiamo a un tavolo, come sempre andiamo, i nostri dubbi, le nostre perplessità necessitano delle risposte certe e soprattutto che le risposte che ci vengono date poi corrispondano a dei fatti, cosa che fino ad oggi non è successo questo. Ci aspettiamo che questa volta ci vengano date delle risposte certe e più concrete proprio per affrontare la situazione che abbiamo davanti. Siamo disposti a seguire tutti i percorsi possibili a livello istituzionale, ma dipende dall'azienda e l'azienda si deve rendere disponibile e l'azienda deve sollevare un problema legato anche a una crisi. È scontro tra il governo centrale, in particolar modo tra Donzelli di Fratelli d'Italia e la giunta regionale toscana sulla questione dell'accoglienza dei migranti. Come sappiamo un'altra nave è proprio attraccata nelle coste toscane nelle ultime ore. Allora su questo sentiamo il presidente della regione toscana, Eugenio Giani. Il governo dovrebbe prendere atto che onestamente vanno cambiate normative, va cambiato l'approccio, va cambiato l'approccio perché è indubbio che non vi è stata nessuna forma finora di rallentamento del flusso e quindi la strada è quella di rendere i migranti non emergenza, ma programmata capacità di governo per la loro integrazione e tutto ciò che questo comporta. Conseguentemente bisogna prendere atto che i decreti che finora sono stati approvati hanno portato addirittura a burocratizzare il passaggio di quello che dovrebbe essere il percorso dai CAS, i centri di accoglienza straordinaria, al sistema SAI, strutture di accoglienza integrata. Con il restringimento che è stato fatto, ad esempio ai richiedenti asilo, a non poter passare dai CAS ai SAI, i CAS si stanno ingolfando, mentre nelle strutture di accoglienza integrata i posti ancora ci sono. Il governo deve ripensare molto a quelle burocratizzazioni, a quelle enfatizzazioni come stato d'emergenza, no, in modo molto concreto e pragmatico, studi, percorsi per poterli portare e integrare. E poi la diffidenza che ha creato verso le strutture gestite da organismi di volontariato, da persone che volevano darsi da fare e che lo avevano fatto con associazioni, il fatto di mettere anche quelle risorse perché oltre che il vite e l'alloggio si possa insegnare l'italiano, questi migranti si possano indirizzarli anche nei luoghi dove possano poi lavorare. Dobbiamo far questo e quindi onestamente mi sembra che la demagogia abbia poco spazio e io ritengo che ciò che io avevo segnalato, quando non volle firmare quell'impatto integrativo al decreto d'emergenza, abbia rivelato alla luce dei fatti di oggi quanto avessi ragione. Due agenti della Polizia Municipale di Bibiena hanno salvato due gattini che erano stati abbandonati nei cassonetti nella zona di Mausolea a Soci. La Municipale è stata allertata dagli operatori di Sei Toscana che si trovavano nella zona per svuotare i cassonetti e si sono accorti dei due cuccioli, una catena di salvataggio davvero bella. Adesso i gattini sono stati affidati a Carla Giovani, una volontaria molto attiva in Casentino che speriamo gli possa anche trovare una casa. Parliamo adesso invece della Verna dove oggi è stato inaugurato il nuovo sentiero che porta proprio al santuario, una strada di fatto provinciale, dunque di competenza proprio della provincia di Arezzo. Ma le novità per il santuario non sono soltanto queste. Sentiamo. Inaugurata e resa accessibile la nuova strada provinciale che porta al santuario della Verna. È un lavoro importante che era nella mente dei frati della Verna da molto tempo a rendere accessibile il più possibile anche per i non deambulanti questo santuario che è anche un luogo di consolazione e quindi frequentato anche dagli ammalati. Già il santuario e la foresteria erano adeguati ma proprio lo spazio per arrivare era faticoso. Il manto stradale è stato completamente rinnovato e messo in sicurezza. Si trovava in uno stato degradato a causa delle condizioni climatiche e delle frequenti nevicate. Il passaggio continuo di auto e mezzi pesanti poi avevano fatto il resto. Adesso la strada è completamente rinnovata. È stato un primo intervento di lavori di circa 160.000 euro e poi un secondo intervento per arrivare insomma ai 260.000 euro. Questo naturalmente per rendere tutto pedonalizzabile questa strada in sicurezza perché c'era un lastricato in pietra e poi anche per dare un'immagine che sia legata diciamo al santuario ma soprattutto attraverso l'architettonico anche renderlo più gradevole con la natura circostante. Grazie ad un finanziamento della regione toscana presto anche la cappella delle stimmate di San Francesco sarà accessibile ai disabili. Da lunedì abbiamo iniziato un altro nuovo cantiere che stiamo facendo il camminamento sempre per disabili che dal cancello si entra e si arriva fino dentro la cappella delle stimmate. Un importante progetto. Abbiamo avuto 500.000 euro di contributo dalla regione toscana. Il fatto di qualificare questi luoghi oggi con quello che è questo percorso così qualificato e aperto ai più fragili, ai disabili. Domani appunto entro il 5 di gennaio, giustissima la scelta di Tellini e dei padri francescani di partire proprio in uno dei giorni che segna ciò che sarà il cammino nell'anno 2024 con quello che è il percorso interno ci dà il senso di un rapporto straordinario. È iniziato il montaggio delle tribune in Piazza Grande in vista della prossima giostra del Saracino che si terrà domenica 3 settembre. Montaggio di fatto sotto gli occhi dei turisti in una Piazza Grande davvero ancora molto affollata appunto di visitatori. le tappe di avvicinamento alla giostra saranno molte in questi giorni. Intanto sabato prossimo è stata fissata la presentazione proprio della lancia d'oro dedicata in questo caso ai 100 anni dell'Arezzo, dunque del Cavallino mentre domani proprio con tema appunto questo importante compleanno dell'Arezzo sarà presentato alle 18 il libro appunto dedicato ai 100 anni dell'Arezzo presso il Palazzo della provincia di Arezzo. Ci spostiamo adesso invece a Cortona dove c'è stata la visita del Presidente del Consiglio regionale Mazzeo. Una mostra stupenda, una mostra che racconta Luca Signorelli, la sua arte, la sua capacità di portare Cortona nel mondo. Una mostra di livello internazionale da visitare e da far conoscere in tutto il mondo. Cortona al centro del mondo, grazie anche alla mostra Signorelli 500, un investimento molto importante ma che sta dando davvero grandissime soddisfazioni non solo ai cortonesi ma direi a tutta l'Italia. È una mostra di altissimo livello che vede già ingressi per 15.000 persone, una mostra che si lega al territorio e che crea un indotto turistico molto importante. Cortona rimane la perla della Valle di Chiana e di Arezzo in termini culturali. Proprio oggi con la visita del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo abbiamo superato i 15.000 visitatori alla mostra Signorelli 500. È un grande orgoglio per Cortona, è una mostra che ha veramente rispettato tutte le premesse e finalmente proietta Cortona nel mondo dell'arte, nel mondo dell'arte ad ampio respiro. Sono convinto che moltissimi godranno di questo allestimento che sta ricevendo complimenti da parte di tutti. E sono anche soddisfatto che Regione Toscana si sia mostrata sensibile e presente per questa iniziativa che sta richiamando a Cortona migliaia di visitatori. Luca Signorelli meritava un percorso di approfondimento, di ulteriore conoscenza della sua grande arte pittorica. Insieme siamo riusciti a fare una bella pagina di storia cortonese. Di nuovo in Casentino perché dal 31 agosto al 3 settembre arriverà la 25esima edizione della Biennale Europea d'Arte Fabrile a Stia, dunque in Alto Casentino, la più antica rassegna mondiale di artigianato artistico sul ferro battuto. Oltre 300 i fabbri che arriveranno da tutto il mondo pronti a darsi battaglia per l'undicesimo campionato del mondo appunto di forgiatura. Il percorso espositivo per questa 25esima edizione sarà ospitato all'anificio Spazio Vuoto Incubatore di Idee, un invito raccolto agli artisti di tutto il mondo affinché esprimano attraverso proprio l'arte della forgiatura la loro voce. E' venuto a mancare ieri, come sappiamo, all'età di 80 anni, il noto cantante Toto Cutugno e allora nel ricordo e anche nelle note di Pupo Enzo Ghinazzi lo ricordiamo così. Questa era una canzone che Toto nell'80 cantò a Sanremo che vinse, che praticamente mi soffiò la vittoria al Festival di Sanremo. Io cantavo di noi, non vedo la nuvola, sì, lui cantava solo noi, io su di noi. Un ricordo indimenticabile, la prima volta che ci siamo incontrati, e da allora per più di 40 anni abbiamo condiviso i palcoscenici di Mezzo Mondo. Lo ricordo non solo con affetto ma con rispetto e come un fratello maggiore che mi dava consigli importanti, non solo musicali. Toto Cutugno è davvero stato un grande protagonista della scena musicale italiana nel mondo. Siamo alla pagina dello sport, abbiamo già detto che domani si presenterà il libro dedicato ai 100 anni dell'Arezzo, ma oggi è stato il giorno delle nuove maglie. I nostri servizi. I nostri servizi. Cosa significa per l'azienda leader che rappresenta questa città? E' un grande onore perché questo è l'anno del centenario. Siamo quasi coetanei. Noi nasciamo nel 26 e l'Arezzo è nata solo tre anni prima, quindi l'anno del centenario un R che rappresenta per l'Arezzo una dimensione economica fondamentale, così importante, l'abbiamo visto come un gesto di vicinanza che rappresenta più di una dimensione commerciale. Io ricordo Cersei Cosmi con le maglie dell'1R negli anni 90 naturalmente. Poi abbiamo anche nel 2018 avuto una partnership, ritorniamo a farlo in un anno importante, quindi oggi è una bella giornata. Per gli sponsor Aretini, Doc è quasi una gioia. Sì, è una gioia e ci sono anche delle valutazioni da fare, nel senso che siamo tutti tre sponsor di Arezzo e non solo, anche dello stesso settore che potrebbe essere anche un segnale per essere anche il trascinamento anche per altri che possano arrivare per aiutare e supportare la società amarante. Tra l'altro sì, Arezzo è molto forte nel mondo dell'oro, non si capisce perché non ci sono sponsor importanti che permettano alla società di fare qualche passo in avanti. Voi siete un bel esempio. Siamo un esempio di aziende che lavorano nel settore orafo, un settore importante trainante e questo può essere anche veramente un segnale per tutta la città e per lo sport cittadino a partire dal calcio, la società amaranto, ma trainante anche per tutto il settore e anche i cittadini di Arezzo. Forse è una delle prime volte dove il mondo orafo si rivolge al calcio insieme. Sì, dobbiamo dire che l'avvicinamento dei sponsor Aretini e soprattutto di uno a Are ci porta un orgoglio importantissimo da questo punto di vista. Non immaginavo dove stavamo, dico la verità, perché non essendo un annato e cresciuto ad Arezzo oggi ho messo mani per la prima volta e ho capito realmente che importanza è una R per la città di Arezzo. Me l'hanno spiegata, me l'hanno fatto capire, ma entrando qui ti rendi conto che sei entrato nella storia Aretina. Quindi speriamo di continuare insieme per tanti anni e di dare tante soddisfazioni al popolo Aretino. No, sono contento, non so se si vede, ma sono contentissimo di questo avvicinamento generale di tutta la città. C'è il mondo impenditoriale, il semplice tifoso, di tutti. C'è proprio una... e secondo me questo non è perché abbiamo vinto, perché veramente dopo tre anni stiamo dimostrando che realmente stiamo portando e facendo le cose in maniera seria, onesta e concreta. Poi i risultati ovviamente aiutano, però la programmazione che ci stiamo mettendo è tanta roba. Sei contento? Una battuta veloce, visto la tua passionalità della campagna acquisti in sessione. Eh beh, io sono sempre contento per il motivo, perché mi sono affidato, per come la vedo io, al miglior direttore che possiamo trovare sulla piazza. Scherzando io ho detto, Paolo, devi durare tanto, 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 perché finché ci sei tu, ci sono io. Quindi fuori discussione, perché mi trovo talmente bene che ha ancora dimostrato di avere dentro di sé un attaccamento all'azienda fondamentale. Quindi ha creato un gruppo solido di bravi ragazzi, spendendo il giusto e soprattutto senza fare quei voli pindarici che io continuo a dire che non li devi fare, perché se li fai ti fai male. Giorni di duro lavoro anche per la SBA, parliamo ovviamente di basket. Sono iniziati gli allenamenti in vista del campionato di Serie B. E allora sentiamo intanto ai nostri microfoni il presidente Mauro Castelli e poi colui che è stato un po' l'eroe della passata stagione, Fornara. Senta, presidente, le note sportive le facciamo dire a coach evangelisti. La città ha risposto come lei si aspettava? Bella domanda, questa l'hai studiata. Allora, io che sono sempre pessimista avevo molta paura che la città non rispondesse, almeno dal punto di vista commerciale, degli imprenditori. Invece devo dire che questa volta mi devo ricredere, perché c'è stato tante aziende che si sono fatte avanti loro addirittura per essere di aiuto per questa nuova stagione. Ora, non tantissime, ma insomma alcune aziende ci hanno veramente dato una grossa mano per poter costruire qualche cosa diciamo abbastanza buono. Poi, come dire, il metro lo vedremo nelle prime partite. Noi abbiamo deciso di puntare sui giovani, prima perché costano anche meno ovviamente. I grandi nomi sarebbero stati costretti a prendere solamente uno o due giocatori. Abbiamo pensato invece che era meglio rafforzare tutti i reparti, dai piccoli ai lunghi. Dopo il primo allenamento, devo essere sincero, io personalmente sono molto soddisfatto delle scelte fatte. Poi ovviamente saranno le partite. Ritornando alla domanda tua, la cosa che secondo me devo sottolineare è che fra tutte le aziende commerciali che si sono avvicinate ce n'è una che non è un'azienda commerciale, che è una cosa a cui io ci tenevo tantissimo, è stato un riconoscimento molto valido, che è la Fondazione Arezzo in Turra, che entrerà non solo a far parte della nostra organizzazione, proprio perché, e questa la do come notizia nuova, il palazzetto dello sport nostro, il Palace Sportestra, è diventato con più di 90.000 presenze l'anno un punto di arrivo per il turismo sportivo. Molti arrivano e chiedono di Arezzo cosa vedere, cosa fare. Allora la Fondazione sarà presente all'interno dell'ingresso del palazzetto con uno stand particolare, molto molto bello e invitante per vedere la nostra città, oltre a essere poi inserite nelle divise da gioco. Quindi siamo ben contenti di questo nuovo nome che si lega alla SBA. Allora c'è da augurare solo buon lavoro a questi ragazzi? Sì, sì, ne abbiamo bisogno, dobbiamo lavorare tanto. Diciamo buon lavoro. Tra i giocatori più acclamati della scorsa stagione, questi canesti davvero dell'ultimo minuto, come si affronta allora questa stagione nuova? Allora, a livello di squadra sicuramente sarà una stagione, secondo me, molto divertente, perché la squadra è nuova, cioè la maggior parte dei giocatori sono nuovi, giovani, quindi sicuramente sarà interessante vedere come affronteremo il campionato. Non sarà facile perché sicuramente ci sono tante squadre molto competitive, Firenze, Siena, tra le più competitive, quindi dovremmo stare tutto il tempo concentrati per poter dare sempre, insomma, il nostro apporto. La stagione passata ha confermato appunto che non si molla fino all'ultimo secondo, fino all'ultimo minuto. Coach Evangelisti ha detto punteremo molto anche sui giovani e ovviamente magari conterà anche su chi, più esperto come te, riuscirà a fare i gruppi e amalgamare, come dicevi tu, coloro che arrivano per prime quest'anno. Certo, io personalmente, purtroppo, come sapete, non sarò subito a disposizione dello staff e della squadra, per un infortunio che ho avuto praticamente la penultima partita dell'anno scorso. Ora, i tempi di recupero non li so, nel senso che li so, ma preferisco per ora non dire date che sono per ora provvisorie. Il recupero sta andando molto bene, sta procedendo bene con lo staff, soprattutto con Maraccini, con il fisioterapista, la squadra, sta andando molto bene e quindi niente, speriamo possa procedere tutto per il modo giusto. E allora, nelle prossime edizioni del nostro telegiornale vi faremo conoscere i quattro nuovi ingressi a disposizione appunto della SBA e poi sentiremo insomma tutte le voci dei protagonisti in vista, come dicevamo, del prossimo campionato. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e arrivederci.